Tu sei Carlo Verdone? Ibra, come stai? Che piacere conoscerti. La stretta. Ho visto i tuoi film, fai ridere. Pure io ho visto i tuoi gol, sei sempre il top. Zlatan lo sa che è top. Chi? Zlatan. Ah, Zlatan, che ti chiamo sempre Ibra. Tu stai bene? Ti vedo un po' spento. Vedi spento? Sto per iniziare un nuovo film, però ho un po' paura perché sento, sai che cosa? Il peso degli anni che fanno avanti. Sono 45 anni che lavoro io, capito? Si sente la stanchezza da un po'. Questa è la verità. Che dici? L'età non è una buona giustificazione. Pensa a Zlatan. Quando tornato in Italia tutti dicevano che era vecchio. Io l'ho mai detto, mai detto. Era finito. Invece adesso ha 40 anni sta correndo ancora in campo. Contro avversari che possono essere dei suoi figli. Vero. E vince ancora Scudetto. Eh, mentalità. Tu sei vecchio solo se ti senti vecchio. Abbiamo tempo per riposare, Carlo. Ma quel tempo è in tomba. È ragione. Dai, forza. Grazie. Bocca al lupo. Grazie per queste parole. Grazie, grazie per la tua vicissima. Forza. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao.